Questa è una farfalla idea, una farfalla velenosa delle Filippine. Per far capire ai loro predatori che non sono commestibili hanno una colorazione bianca e nera molto vistosa e oltre a questo hanno un volo molto lento, ostentato, quasi esibizionista. Molte farfalle tossiche come la farfalla idea hanno un'altra caratteristica. Il loro rivestimento, cioè il loro esoscheletro, la loro corazza, è elastica. In poche parole hanno una consistenza gommosa e se un uccello provasse ad assaggiarla si accorgerebbe che non è commestibile per il cattivo sapore ma non ucciderebbe la farfalla appunto grazie alla sua elasticità. Ciao da Manuile Francesco dalla Casa delle Farfalle di Bordano.